Buonasera a tutti, sono Maria Teresa Tuccio dell'APS Zenzero, il circolo genovese che insieme a Ecoistituto di Reggio Emilia Genova dal 2001 ha cominciato a occuparsi di, a parlare di transizione ecologica, dal 2001 scusate, dal 2021 ovviamente, dai tempi in cui sembrava che con il PNRR sarebbero arrivati una quantità ingente di finanziamenti per promuovere questa transizione. Abbiamo incominciato a quell'epoca a chiederci che tipo di transizione ecologica vogliamo e non sia semplicemente la famosa mano di vernice verde sudesistente senza cambiare sostanzialmente nulla e su questo abbiamo cominciato a invitare esperti dei vari argomenti per cercare di fare informazione, di divulgare notizie e non ultimo fare anche formazione perché riteniamo ormai che il livello di complessità per certi argomenti sia talmente alto che è necessario avere le conoscenze per poter prendere le decisioni e provare a incidere in qualche modo. Tutte queste conversazioni, questi incontri si svolgono in presenza allo Zenzero e online su YouTube e vengono tutti registrati e riportati sui nostri siti, sito di zenzero.org e sito di ecoistitutorege.it rispettivamente nella sezione attività e nella sezione progetti. Io direi che la conferenza di oggi riguarda in particolare due argomenti che il biometano e il compostaggio che vanno in qualche modo ad arricchire il discorso di economia circolare che abbiamo cercato di fare anche nelle conferenze precedenti. Di biometano ci parlerà Lorenzo Maggioni che è già collegato con noi e fra un'ora avremo con noi con Palonieri che ci parlerà del compostaggio e dell'inglobamento del carbonio nei terreni agricoli. Prima di passare la parola a Federico dal circolo Zenzero che introdurrà la conversazione vera e propria vorrei raccomandare di porre le domande in chat. Ora siamo in pochi, magari possiamo anche azzardare domande in diretta, però in genere preferiamo che le domande vengano poste in chat e preferiamo anche tenere spenti i microfoni e le videocamere per non caricare troppo la rete. Un'ultimissima cosa vorrei ringraziare Cristo perché in tutte queste conferenze già sempre ci fornisce il link, il collegamento su Zoom e soprattutto ci assiste con dedizione e pazienza nelle nostre dirette. A te Federico. Buonasera a tutti, abbiamo due ospiti e parliamo di un argomento un po' inconsueto, come sia possibile trasformare i nostri scarti di cucino agricoli in qualcosa di molto prezioso. Questo molto prezioso è metano e sostanzialmente anche un fertilizzante. È un problema che ci interessa molto perché se la crisi Ucraina ha evidenziato per tutti, con l'aumento delle tariffe e anche la penuria che c'è stato, che abbiamo un problema che non arrivando più il metano dalla Russia, come dire, tutta l'Europa è rimasta in crisi, forse sfugge un po' a tutti che abbiamo un'altra carenza dovuta a questo conflitto che è ancora in atto, che è quello proprio dei fertilizzanti, perché sia la Russia che l'Ucrania sono dei fornitori di fertilizzanti agricoli a base azotata, che è una componente essenziale per la produzione agricola di tutti i paesi avanzati, ovviamente anche per quelli non avanzati che comunque hanno bisogno di alimenti per poter andare avanti. Questa crisi forse dà lo spunto per capire come sia possibile utilizzare una risorsa nostra, che peraltro possiamo anche leggere come un problema, quello dei rifiuti urbani. Ecco, qui abbiamo appunto due esperti per parlare di questo argomento e cominciamo con Lorenzo Maggioni, che è un esperto proprio del biometano, che è qui con noi, lo ringraziamo e a lui con la sua conversazione cominciamo a chiedere, ma cos'è il biometano e cosa lo distingue dal biogas e ancora di più dal metano che ci arriva appunto, che ci arrivava dalla Russia e oggi magari ci arriva dagli Stati Uniti con le navi gasiere? Beh innanzitutto ringrazio per l'invito, mi fa piacere trascorrere con voi questa ora, poi ascolterò magari collegandomi, adesso sono all'estero, poi mi devo mettere in viaggio. Grazie ancora, motivo di più per essere. Mi seguirò intanto che guido verso casa, quindi vi ringrazio appunto per questo invito. Spendo solo due parole per presentarmi, io sono Lorenzo Maggioni, sono un agronomo, dottore di ricerca in ecologia agraria, ho lavorato per 14 anni per il Consorzio Italiano Biogas, avventura che è finita da pochissimi giorni, adesso sto seguendo un'avventura che fa parte sempre del Consorzio, è una cooperativa che si chiama Verde Metano che raggruppa le imprese agricole e che si pone l'obiettivo di commercializzare proprio il biometano, sia per uso trasporti, sia per il settore industriale, ma anche per quello residenziale. Quindi questa era semplicemente l'introduzione per farvi capire che effettivamente un po' ne capisci di biometano. È una mia grande passione, spesso vengo invitato anche a convegni in giro per il mondo per illustrare questo tema. Allora, il biogas è risultato di una fermentazione anaerobica che avviene quindi in assenza di ossigeno. Anaerobico vuol dire assenza di ossigeno. Esatto, in assenza di ossigeno è un fenomeno che avviene assolutamente anche in natura, avviene nelle risaie, giusto per dare un esempio. Quindi l'uomo cosa fa? Controlla questo fenomeno ponendo delle condizioni, cioè facendo in modo che la temperatura sia sotto controllo, che non sfugga del gas all'esterno del processo e migliorando quella che è una condizione all'interno di un'azienda agricola. Mi spiego meglio. Se io all'interno di un'azienda agricola gestisco in maniera tradizionale i reflui zootecnici, liquame, letame delle vacche da latte, dei suini, degli altri animali allevati nelle aziende, questi liquami, ci sono centinaia di studi che lo dimostrano, emettono dei gas climalteranti in atmosfera. Attraverso un processo di gestione anaerobica, andando a trattare in modo preliminare, cioè immediatamente dopo la loro produzione i reflui zootecnici e altri scarti dell'agricoltura, altri sottoprodotti agricoli, io riesco a limitare fortemente le emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Quindi cosa faccio? Prendo queste matrici, queste biomasse, liquame, letame, gli stocchi del mais, altri appunto sottoprodotti agricoli. E cosa, gli stocchi del mais cosa sono? Perché poi che sai, noi siamo cittadini, quindi... La pianta del mais, lo stocco è tutto ciò che rimane della pianta dopo che ho tolto quello che noi normalmente chiamiamo pannocchia. Pannocchia, grazie. In realtà sarebbe una... botanicamente si chiamerebbe in un altro modo, però per semplificarsi la vita noi la chiamiamo pannocchia. Di una parte comunque che non si mangiano neanche gli animali. No, ma guarda, di solito il mais viene raccolta tutta la pianta, il fusto, le foglie, la pannocchia, viene tagliata a pezzettini piccoli, si mette da parte perché è un alimento che serve tutto l'anno, la si conserva attraverso un processo di fermentazione e viene dato, così com'è, si chiama insilato. Ecco, quello si chiama insilato. Non ti nascondo che fino a un po' di anni fa l'insilato di mais veniva dato da mangiare anche digestori anaerobici. Adesso per produrre biometano negli impianti, per esempio, che oggi stanno producendo un carburante, un biocarburante in Italia, grazie agli incentivi introdotti nel 2018, di mais nei digestori anaerobici che producono biometano non entra neanche un chilo perché non si può più utilizzarlo. Si devono usare sottoprodotti, si devono usare deiezioni degli animali e come dicevo lo si fa in maniera controllata. Immaginati un grosso pentolone, una pentola a pressione, a tenuta ermetica, che scaldo, che mantengo a temperatura e che continuo a miscelare. Quindi all'interno di questa massa, questa sorta di minestrone, ci sono dei batteri, batteri metanigeni, che iniziano a fermentare in condizione di assenza di ossigeno e producono il cosiddetto biogas. Il biogas è una miscela di metano, normalmente negli impianti agricoli ce n'è dentro, dal 50 al 55-58%, da parte restante soprattutto anidride carbonica. Io il biogas lo uso così com'è nel cogeneratore per produrre energia elettrica, considera che oggi... Si brucia questa miscela anidride carbonica. In Italia oggi abbiamo 2.000 impianti, a livello europeo ce ne sono 20.000 di impianti biogas che producono energia elettrica, la producono 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dando una mano al problema energetico. Perché la fonte comunque è rinnovabile, no? Giusto? E c'è una produzione continua che non dipende dal giorno e notte, il fatto che c'è vento, giusto? Esattamente. Ecco, il problema è che vedo che molti di... Scusa, posso dire? E togliendo anche dall'atmosfera degli elementi... Perfetto. Questo non lo dice Lorenzo, lo dice per esempio l'istituto che si occupa di... Scusa, adesso mi sfugge la sigla, l'ISPRA, l'istituto superiore per la ricerca sull'ambiente, che ha pubblicato fior fior di studi, ma non neanche loro, lo dice il Consiglio Nazionale della Ricerca, lo dicono tutti i professori universitari che si occupano con serietà di questo problema, che hanno pubblicato pubblicazioni scientifiche che dimostrano quanto sto dicendo. C'è uno studio bellissimo pubblicato nel qualche anno fa dall'istituto statale svedese che si occupa di agricoltura biodinamica, che dimostra come un'azienda agricola tradizionale rispetto ad un'azienda agricola con impianto biogas, ecco, l'azienda agricola con impianto biogas inquina molto meno rispetto all'azienda tradizionale senza impianto biogas. E questo lo dice l'istituto per la ricerca statale in Svezia che si occupa di agricoltura biodinamica, lo dice uno studio... Scusa, tutti quegli impianti e biogas di cui parlavi prima sono quindi abbinati a attività agricola, mi puoi confermare? Assolutamente, sì, assolutamente. Poi, guarda... Vabbè, adesso non inumida assolutamente l'ordine... In maniera molto aperta senza doverci nascondere dietro un dito. No, 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 io poi... La maggior parte degli impianti agricoli che hanno... degli impianti agricoli presenti in Italia con biogas hanno alle spalle una bella azienda agricola che continua a produrre cibo, che continua a fare i mestieri che magari hanno iniziato a fare qualche generazione prima. Poi ci sono pochi, ma ci sono anche impianti che sono nati recentemente dove di agricoltura c'è la matrice, ma non c'è un'azienda agricola alle spalle. D'accordo, va bene, magari ne parliamo. Certo. Perché, appunto, una cosa da cui ho notato è che molte di questi impianti a biogas si stanno trasformando in impianti a biometano. Quindi volevo che questo aspetto magari ce lo spiegassi un po' meglio, anche per capire, appunto, la differenza tra biometano e biogas. Qual è? Il biogas, bene o male, l'abbiamo già spiegato. Quindi è questa miscela di metano e anidride carbonica. Per fare il biometano è facile, perché tu parti dal biogas, togli quello che non ti serve, che è l'anidride carbonica, e concentri il metano. Quindi arrivi al biometano, per definizione, è quel gas che ha caratteristiche simili al gas naturale estratto dal sottosuolo, ma che però viene prodotto in maniera rinnovabile, partendo o dagli scarti dei nostri cibi, come spiegherà Confalonieri successivamente, quindi dalle bucce delle banane noi produciamo prima un biogas e poi un biometano, oppure dagli scarti, dai sottoprodotti dell'agricoltura, dai refluizzo tecnici, dalle deiezioni quindi degli animali allevati nel nostro paese e in giro per il mondo. Quindi non si fa altro che separare questi due gas, l'anidride carbonica rispetto al metano. Si concentra il metano, quello da biogas, non si chiama più biogas, si chiamerà biometano. Anche perché è metano quasi puro, no? Confermi? A una concentrazione normalmente che è superiore al 99%, tenendo conto che quello che noi usiamo nelle nostre case, che compriamo da altri paesi, normalmente se vai a fare l'analisi ha dentro un contenuto di metano CH4 che è anche addirittura al di sotto del 90%, la parte restante sono idrocarburi, sono altre impurità, quindi il biometano rispetto al metano fossile da rete ha una purezza decisamente più elevata e anche per questo motivo è particolarmente apprezzato e gradito sia per il settore trasporti, sia per altri usi finali. Ecco perché la cosa che mi pareva interessante è che io capisco che c'è molta gente che questo termine bio è un pochino allergico, perché indubbiamente se ne fa un abuso. A me piaceva tipo metano fresco, ma insomma se non voglio introdurre nuove terminologie continuiamo a chiamarlo biometano. Però a me sembra che il biometano abbia una caratteristica molto importante e interessante che magari ci dici tu, perché a questo punto, dato che è indistinguibile dal punto del metano fossile, possiamo metterlo tranquillamente nella rete di distribuzione del gas, giusto? Noi il biometano lo stiamo già usando a partire dal 2018 nelle nostre auto a metano. Quindi anche per l'autotrasporto ovviamente? Inizialmente era solo per autotrasporto, è solo a partire da settembre 2022 che grazie a un nuovo decreto viene introdotta la possibilità di utilizzarlo anche per altri usi finali. Quindi biometano in Italia iniziamo a produrlo destinandolo solo come biocarburante avanzato nel settore trasporti, ricordando che l'Italia è particolarmente virtuosa in quanto è la primatista a livello europeo per numerosità di mezzi alimentati a metano. Ne abbiamo più di un milione e consumiamo normalmente più di un miliardo di metri cubi di gas naturale, ovvero di metano fossile. Ora stiamo arrivando al punto da sostituire interamente il gas naturale fossile. Non stiamo lì a dire da dove lo compravamo, però lo stiamo sostituendo grazie a un prodotto, a un carburante avanzato, avanzato è un aggettivo che sta a significare che viene prodotto attraverso sottoprodotti scarti alimentari senza usare neppure un chilo di cibo, di cibo, solo scarti, e quindi viene prodotto per la via che vi ho spiegato prima e grazie a questa produzione si sostituisce completamente il metano di origine fossile. Puoi darci qualche idea a che punto siamo, come volumi? Guarda, alla fine di quest'anno la previsione è di arrivare a 70-80% di copertura dell'intero parco circolante nel nostro paese. Quindi questa per la parte del trasporto? Trasporto. Contemporaneamente stiamo... E maggior purezza significa anche maggiore resa nel trasporto? Maggiore purezza soprattutto nel... Sì, c'è... Anche qua adesso... Spieghiamoci meglio. Il biometano può essere usato nel settore trasporti, ma anche per altri usi finali, in tre modi principali. Quattro, scusate. Il primo, lo immetto dentro nella rete del gas. Quindi, attraverso la rete del gas arriva virtualmente al distributore. Questo non ci deve stupire perché succede la stessa cosa con l'elettricità. Io ho un impianto fotovoltaico, l'energia elettrica viene messa nella rete elettrica nazionale e poi arriva all'industria che dichiara di poter... di usarla, perché c'è tutto un sistema di certificazione che attesta che quell'industria ha comprato effettivamente una certa quantità di energia elettrica rinnovabile. Col biometano funziona nello stesso modo. Io lo immetto nella rete del gas, si miscela e va a finire poi nel distributore. In quel caso, il distributore tira fuori metano fossile pitturato di verde. Altri casi, però, virtuosi, sono i casi ed esistono. C'è un bel esempio a Piacenza, c'è un bel esempio a Vipiteno, di aziende agricole o di imprese che producono biometano e che hanno costruito il distributore direttamente collegato all'impianto. Quindi lì compro veramente biometano con una purezza elevatissima. Lo posso comprare o in forma gassosa compressa oppure anche in forma liquefatta. Il bestano liquefatto liquefa a meno 155 meno 160 gradi e attualmente viene utilizzato per il trasporto pesante. Viene usato nei camion in sostituzione del diesel con un abbattimento delle emissioni da parte dei camion che è incredibile. Questo è uno studio condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, studio tecnicamente well to will vuol dire dal pozzo alla ruota quindi viene preso in considerazione come viene prodotto il biometano, come viene trasformato, come viene movimentato, trasportato fino al mezzo che utilizza e il risultato è che a seconda di come viene prodotto ovvero delle matrici utilizzate io risparmio da un minimo dell'87% di emissioni di gas climalteranti confrontate al diesel fino ad arrivare a un calo addirittura del meno 120% ovviamente rispetto al diesel e questo è un risultato anche qua non lo dice l'ultima persona che si alza mattina e spara un numero a casa consiglio è un studio condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche senti però questa cosa non si mette un po' in contrasto col fatto che per esempio di auto a metano non se ne parla più cioè adesso è tutta l'auto elettrica io sono ancora un sostenitore sono d'accordo con te però abbiamo anche questa realtà insomma qui per esempio a Genova abbiamo difficoltà non ci sono tanti automobilisti che vanno a metano anche perché abbiamo pochi distributori qualcuno ce l'avevano anche chiuso recentemente per cui diventava un'avventura poter caricare la propria macchina però questa notizia che mi dai che appunto confermo per quanto ne so anch'io è un dato oggettivo insomma autobus anche del trasporto pubblico per esempio in Norvegia o comunque nei paesi del nord è un fatto già consolidato insomma e quindi anche tecnicamente non ci sono problemi insomma sono macchine che funzionano altrettanto bene senza commentare quello che è la decisione che è stata assunta a livello europeo riguardante la mobilità allora qual è l'impatto che ha nel nostro settore che parco veicolare a metano continuerà a circolare fino a quando le auto riusciranno a viaggiare poi ovviamente negli anni a venire vuoi perché le case costruttrici non li metteranno più in vendita nuovi modelli a metano vuoi per altre dinamiche il numero diminuirà sempre di più ma il biometano già oggi come dicevo sta prendendo un'altra strada allora il biometano servirà per altri usi finali solo solo nel settore industriale noi consumiamo 20 miliardi di metri cubi all'anno poi c'è su quello mi pare su quei livelli siamo per questo uso diciamo qui c'è questo aspetto che dicevi tu invece per la produzione la parte di biometano che viene immessa nella rete di distribuzione del gas e quindi va poi a tutti gli usi stiamo iniziando adesso grazie al su che volumi siamo attualmente che tu sappia e quali sono le prospettive perché so che ci sono degli studi in questo momento tutto il biometano prodotto in Italia siamo intorno a mezzo miliardo di metri cubi arriveremo alla fine dell'anno intorno agli 800 milioni però tutto quello attualmente prodotto è destinato al settore trasporti come biocarburante avanzato ok va bene ma ci sono dei limiti per fare per capire perché oggi è zero il quantitativo destinato all'industria o al settore residenziale bisogna capire il nuovo decreto il nuovo decreto introduce una burocrazia abbastanza spinta che obbliga l'aspirante produttore a passare attraverso dei meccanismi di asta di procedura competitiva è un problema tecnico che lo sappia sì sì ma no non è un problema assolutamente è un problema di burocrazia cioè il produttore per poter produrre biometano deve iscriversi a un asta ce ne saranno cinque da qua alla fine del 2025 la prima è stata chiusa a marzo l'ente pubblico che valuta le iscrizioni si prende tre mesi di tempo per controllare per pubblicare la graduatoria quindi avverrà adesso a giugno solo dalla data in cui viene comunicata la graduatoria il produttore l'aspirante produttore può dare via all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto per costruire un impianto servono almeno 6, 7, 8 mesi quindi la primissima produzione di biometano destinato al settore industriale e altri usi finali ci sarà all'inizio del 2024 quindi oggi è zero alla fine del 2026 a giugno 2026 chiedo scusa perché il decreto incentiva anche grazie alle risorse del PNRR e quindi c'è il limite temporale di usare queste risorse entro giugno 2026 entro quella data l'aspettativa è di produrre 2 miliardi 2 miliardi e 200 milioni di metri cubi destinati al settore industriale vuol dire il 10% dell'attuale fabbisogno più o meno dal 10 al 15% poi ha il vantaggio di essere una produzione continua sostanzialmente perché la fonte viene rinnovata visto che sono gli scarti di cui parlavamo prima magari entreremo in qualche dettaglio ma secondo te c'è qualche resistenza di tipo economico cioè qualcuno marcia contro e fa resistenza perché si vanno a rompere degli interessi consolidati non ci sono resistenze da un punto di vista economico anzi c'è tantissimo interesse manifestato da tutti gli attori della filiera produttiva da tutti i possibili utilizzatori oggi c'è proprio la corsa da parte dell'industria accaparrarsi questo biometano perché perché biometano permette di decarbonizzare il settore industriale decarbonizzare vuol dire evitare le industrie di acquistare i crediti di carbonio di spendere un bucchio di soldi comprando ci puoi dare un esempio di quali industrie sono interessate hai qualche notizia riguardo tutte le industrie fortemente energivore o cosiddette anche usando un termine anglosassone hard to abate che hanno le emissioni che difficilmente possono essere abbattute in altro modo sono interessate a questo settore che tu sappia che sono cementifici non hai notizie perché questo è un problema proprio degli amici che mi stanno chiedendo aiuto appunto sono le cartiere i cementifici le acciaierie c'è un lungo ma ci potrebbe essere anche un interesse economico da parte delle aziende di poter potrebbe essere al posto del carbone e poi alla fine o di anche visto come è stato congegnato il decreto potrebbe essere che l'industria riesca ad acquistare questo prodotto nazionale prodotto grazie a scarti magari a un prezzo un pelino più competitivo rispetto al metano fossile però non è quello che sta spingendo molte industrie a interessarsi di questa opportunità e cos'è allora? è appunto il fatto che grazie a biometano io posso decarbonizzare la mia quindi comunque c'è un risparmio quindi non devo pagare le tasse diciamo così le ecotasse per l'emissione di carbone fossile giusto? introduce un meccanismo che viene chiamato garanzia di origine che già è già in vigore nel nostro paese per l'energia elettrica quindi l'industria che acquisterà il biometano e acquisterà queste garanzie potrà adesso lo leggeremo in un nuovo decreto di prossima pubblicazione potrà fare a meno di comprare questi crediti carbonio cioè le garanzie di origine da biometano avranno lo stesso valore dei crediti di carbonio tu avevi già accennato comunque gli incentivi perché vengono dati alla produzione penso sia di biogas che di biometano puoi darci qualche elemento in più di conoscenza? cioè esistono incentivi adesso? adesso esistono incentivi che stanno finendo per la produzione di biogas ed è il motivo per cui si inizia anche a parlare di biometano perché il biometano è anche una soluzione per far sì che quegli impianti virtuosi che stanno già producendo energia sotto forma diversa sotto forma di energia elettrica giunti al termine del periodo di incentivazione elettrica continuino a lavorare producendo per il nostro paese producendo energia che oggi ci manca che saremo costretti a importare dall'estero sotto forma diversa non più sotto forma elettrica ma sotto forma di biometano ovviamente il decreto non si ferma qua il decreto spinge anche a installare dei nuovi impianti ecco allargando un attimo l'orizzonte e guardando cosa succede a livello europeo la commissione europea ha pubblicato un piano che si chiama Repower EU che spinge a produrre addirittura 35 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2030 oggi ne stiamo producendo a livello europeo 3 miliardi e mezzo vuol dire 10 volte tanto in un arco temporale veramente molto molto breve senti io avevo notizie di comitati di studio che per mettere in rete per mettere in rete nella rete europea tutto il biometano prodotto dai singoli paesi si studiavano appunto le specifiche che a questo punto era il caso di adottare in modo tale che questa compatibilità ci fosse perché ovviamente il biometano non deve deve essere compatibile con le tubazioni attualmente in funzione una cosa peraltro immagino che sia assolutamente compatibile hai notizie di queste cose perché so che i lavori si sono conclusi qualche tempo fa non so se questa norma c'è questa possibilità esiste quindi abbiamo già uno scambio a livello europeo del biometano che ogni paese sta producendo no allora non c'è ancora non siamo ancora arrivati a questo tra alcuni paesi ci sono scambi di biometano perché la rete esiste già la rete è sicuramente interconnessa giusto andiamo per gradi prego ogni paese possiede ha pubblicato una norma tecnica molto sono molto simili tra di loro esistono delle linee guide a livello europeo quindi in Italia per immettere in rete dobbiamo rispettare delle norme tecniche il gas viene analizzato in maniera puntuale e addirittura con delle doppie misure la prima effettuata a carico del produttore la seconda effettuata a carico del proprietario del gestore della rete quindi se il gas non avesse quelle caratteristiche di qualità da permettere l'emissione verrebbe bloccato istantaneamente ritornerebbe all'impianto e solamente dopo aver essere stato passami il termine ripulito potrebbe entrare in rete tra alcuni paesi europei per esempio Germania Danimarca esistono già questi scambi perché banalmente sono stati istituiti dei registri per scambiarsi e per conteggiare queste garanzie di origine che si scambiano da paese a paese cioè il gas circola in giro per tutta l'Europa quello che manca è uno strumento che ti consenta di dire che quella certa quantità di gas deriva da biometano quindi alcuni paesi si sono attrezzati manca ancora una normativa che valga a livello comunitario e che consenta quindi questi scambi di biometano tra il nord Europa e sud Europa o viceversa sull'incentivi puoi specificare un po' meglio tanto da dove cioè gli incentivi da dove vengono chi è che li paghi sull'incentivi se mi ci davi un attimo di idea da dove derivavano e anche qui quale può essere il loro futuro cioè tenderanno a diminuire e sparire nel tempo o continueranno è obbligatorio continuare a essere incentivati per produrre biometano Allora sistema di incentivazione italiana è particolarmente complesso ma cerca di semplificare la cosa Decreto 2018 partiamo da quello perché come ho detto prima l'unico biometano attualmente in circolazione in Italia è Decreto 2018 non impatta direttamente sulle tasche italiane perché perché il meccanismo prevede di passare attraverso i famigerati CIC cosa sono i CIC certificati di emissione in consumo dei biocarburanti cosa vuol dire che a livello nazionale così come a livello europeo noi abbiamo dei obiettivi da rispettare di emissione in consumo oltre che del tradizionalissimo diesel la tradizionalissima benzina noi dobbiamo immettere ogni anno in consumo una certa percentuale crescente negli anni di carburanti passami il termine più puliti biocarburanti e anche recentemente negli ultimi anni è stato introdotto un secondo obiettivo per i biocarburanti avanzati biocarburanti sono per esempio il biodiesel che produce Eni i biocarburanti avanzati sono ad oggi solamente biometano avanzato come ho detto prima vuol dire che viene prodotto senza utilizzo di cibo non viene usato il mais non vengono usati su questo aspetto cibo vuol dire come dire cibo vero e proprio che può essere dato da mangiare agli animali agli umani che in qualche caso potrebbe essere teoricamente utilizzato per fare il betano quindi questo non c'è mentre invece gli scarti di cibo ci sono possono essere utilizzati nel decreto 2018 è previsto l'utilizzo sullo stesso terreno nello stesso anno di una doppia cultura ecco questa se la puoi spiegare un po' meglio la prima cultura la cultura principale facciamo un esempio pratico il mais deve essere certificato non da anche qua dall'ultimo arrivato da un ente di certificazione accreditato al ministero adesso non sto a elencarli tutti se non ho fra i torto deve finire come alimento o agli animali o agli esseri umani dopo aver accolto il mais sullo stesso terreno io posso seminare una seconda cultura per esempio uso una cultura autunno-vernina posso mettere un triticale e a quel punto quella cultura autunno-vernina può finire dentro ho visto che qui nella seconda diciamo cultura appunto vabbè io ho letto a queste date quindi te lo dico viceversa posso seminare ho parlato anche di sorgo e triticale da profano che no triticale è la seconda è la cultura che viene però diciamo non è roba che normalmente mangiamo possiamo trovarci possono mangiare gli animali il concetto è lo stesso terreno lo stesso anno io coltivo principalmente per gli animali sono obbligato a coltivare un cibo che deve finire o sulle nostre tavole o nella pancia degli animali dopo aver raccolto quel cibo posso seminare un'altra cultura che viene utilizzata per finalità energetiche e questo non deve sconvolgere nessuno perché ricordo come ricorda spesso un luminare nel settore agronomico che è il professor maggiore della facoltà di agroare di Milano che da sempre l'agricoltura produce anche energia cioè non sconvolgiamoci non ci siamo mai sconvolti io non ho mai visto un comitato contro poi magari parleremo anche di questi comitati però si si ma spiegacelo un po' meglio il tabacco che diventa una sigaretta che sappiamo che impatto può avere e anche quella quella cultura se coltivo tabacco non coltivo cibo ah beh poi sto pensando anche che la canapa piuttosto ma se metto su un terreno se metto un pianto dei pioppi anche quelli i pioppi non lo mangiamo o in altri luoghi del mondo cioè gli abiti che probabilmente sto il problema era che non ci sia per quello dicevo rispetto agli incentivi perché gli incentivi in alcuni casi hanno distotto il mercato diciamocelo stavo un po' dipagando possiamo anche dirlo volevo rispondere alla tua domanda prego quindi questi il meccanismo è stato congegnato in questo modo qua queste industrie che vendono le grosse industrie petrolifere che immettono in consumo i carburanti tradizionali devono immettere in consumo anche i biocarburanti come lo dimostrano ogni volta che comprano una certa quantità di energia sotto forma di biocarburante ricevono questo certificato se ne ricevono tanti certificati da dimostrare che hanno assolto all'obbligo che hanno annualmente va tutto bene se ne portano a casa meno assegnati dallo Stato devono pagare delle sanzioni molto forti l'anno successivo devono coprirne una maggiore quantità tanto da coprire anche quelli dell'anno precedente se ne hanno di più lo possono scambiare con le altre industrie ora biometano si inserisce per il settore trasporti si inserisce in questo contorto meccanismo il produttore biometano non prende un incentivo prende un pezzo di carta che si chiama certificato emissione in consumo di carburanti che vende riceve allo Stato che a sua volta lo vende alle compagnie petrolifere che in questo modo possono assolvere all'obbligo di emissione in consumo di biocarburanti quindi direttamente non ricade sulle nostre bollette se poi uno dice beh però la compagnia petrolifera poi alza i prezzi al consumo quando vado a comprare la benzina beh può essere però non si può dire che è un meccanismo che questa domanda questo è un meccanismo che ci ha spiegato che mi sembra di capire prevede anche dei controlli insomma ecco la tua esperienza sta funzionando perché poi il problema del nostro paese è un po' quello guarda noi siamo rispetto delle norme appunto delle regole aziende che producono biometano sono controllati da enti di certificazione sono certificati e la certificazione cosa prevede prevede che si dimostri un raggiungimento di un obiettivo ambientale che si chiama sostenibilità ambientale della produzione biometano che deve passare attraverso l'abbattimento minimo del 65% di emissioni climalteranti rispetto a un combustibile fossile se produco un carburante per il settore trasporti dell'80% abbattimento dell'80% quando inizierò a produrre un biometano da usare per altri usi finali industriale e residenziale quindi l'ente di certificazione viene in azienda ti controlla tutto ti viene a vedere cosa stai coltivando se quel mais va a finire nel digestore se va a finire agli animali cosa hai messo prima cosa hai messo dopo fa tutti i controlli della filiera produttiva e solo se tutto va bene se risponde a questo criterio di qualità di sostenibilità ambientale ti rilascia la certificazione se sei certificato accedi agli incentivi se non sei certificato gli incentivi te li sogni volevo introdurre perché poi ne abbiamo accennato al discorso del digestato che è un'altra anche per anticipare poi gli interventi che farà con Fallorieri perché sicuramente parlerà ecco però potevi tanto dici che cosa è perché insomma abbiamo parlato appunto del biometano del biogasso il digestato è l'altro prodotto fenomenale che esce dal digestore dopo il processo dal digestore esce biogas dal digestore esce biogas che può essere trasformato in biometano sotto forma gassosa esce un residuo del processo di fermentazione che si chiama digestato che nell'azienda agricole ma anche negli impianti che usano gli scarti nelle nostre tavole poi viene valorizzato attraverso due vie diverse lo scarto il digestato agricolo viene usato tal quale o altrimenti lo posso separare in una frazione più solida più palabile e una frazione più liquida viene usato così com'è sui terreni viene valorizzato normalmente in maniera molto intelligente dall'agricoltore che lo inietta direttamente nel terreno evitando problemi di puzze di odori ma soprattutto facendo queste operazioni intelligenti di utilizzo intelligente quello che il consorzio italiano biogas per anni ha chiamato biogas fatto bene ottimizza l'apporto di sostanze nutritive al terreno perché nel digestato cosa c'è sostanza organica i nostri terreni sono poverissimi in sostanza organica ci sono poi quelle altre sostanze che tu lo ricevi tu stesso che compreresti attraverso i fertilizzanti chimici quindi ci sono aziende e sono ricordati che sono visitabili quindi chi oggi dice ah ma il biogas inquinante pericoloso allora l'invito è sempre non fidatevi di quei pochi personaggi che girano l'Italia facendo provocando mal di pancia raccontando cose che scientificamente non hanno senso andate a leggere la bibliografia di studiosi veri soprattutto andate a visitare queste aziende agricole con impianto biogas si possono visitare sono persone disponibili sono persone aperte andate in un'azienda scoprite che non c'è odore non c'è puzza non sono cose industriali tremende l'agricoltore continua a coltivare continua ad allevare continua a produrre del buon cibo ma soprattutto è contentissimo perché non compra più un chilo di fertilizzante chimico fertilizzante chimico che inquina inquinava quindi come dicevo prima se abbiamo addirittura dei centri di ricerca stranieri svizzera centri di ricerca statali della Svezia della Svizzera di nazioni che noi italiani consideriamo particolarmente virtuose da un punto di vista ambientale che si occupano di ricerca in ambito dell'agricoltura biodinamica ambito agricoltura biologica ambito anche agricoltura tradizionale che dicono il biogas usato intelligentemente correttamente in un'azienda agricola non solo non inquina di più ma riduce sensibilmente l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente crediamoci cioè è inutile questo che magari ci dai il link di questo che lo invitiamo e lo facciamo conoscere insomma certo certo questo mi sembra che volentieri posso proporre una domanda che è in chat a cui la prima parte l'avevi già detto ma è lo stesso però leggi la scusa viene immesso biometano in gasdotti che trasportano nello stesso tempo i metano tradizionali sì e se sì come si gestisce il degrado del biometano stesso non è che si degrada il biometano è sempre CH4 la molecola è identica quello che cambia è come viene prodotta il metano fossile viene estratto dal sottosuolo dai pozzi il biometano viene prodotto in maniera come abbiamo già spiegato in maniera rinnovabile se si miscela insieme purtroppo quando arriva nella stazione di servizio quando arriverà nelle nostre case quando arriverà nell'industria sarà un prodotto miscelato però facevo l'esempio dell'elettrone l'elettricità che viene prodotta dall'eolico fotovoltaico dall'idroelettrico che finisce nella rete nazionale non è che si distingue l'elettrone rispetto all'elettrone prodotto col carbone quindi è lo stesso identico meccanismo poi io sono tra quelli che dice caspita se è possibile cerchiamo di tenerli separati io sono stato uno di quelli che ha spinto molto per la produzione di biometano liquefatto dove è possibile il biometano liquefatto è bellissimo come prodotto perché tu lo produci lo segui lo tieni sempre distinto da quello fossile quindi le industrie che comprono biometano liquefatto sono sicure di comprare il prodotto che non è miscelato con quello fossile e che ha origine grazie a un processo virtuoso di un'azienda agricola se ho ancora un minuto per un aneddoto simpatico pensate che il biometano liquefatto probabilmente ci farà andare su Marte e non sto scherzando c'è l'agenzia aerospaziale europea che ha stipulato un accordo con una ditta tedesca che sta comprando biometano liquefatto perché il biometano liquefatto rispetto a quello gassoso è ancora più puro raggiunge una purezza in termini di quantità concentrazione del metano del 99,9 a volte si può andare avanti per tre tre numeri dopo la virgola e per per diventare propellente per i razzi che ci manderanno di nuovo sulla Luna o ci manderanno su Marte gli stanno testando questo nuovo reattore questo nuovo combustibile che è proprio rappresentato dal biometano liquefatto un tema che avevi già in qualche modo introdotto però vorrei che lo sviluppassimo un po' meglio ora perché tu sai che il metano ha un effetto clima alterante decisamente maggiore rispetto alla idea carbonica quindi la sua emissione in atmosfera indubbiamente deve essere evitata io penso appunto hai qualche elemento per fare una differenza tra quanto metano fossile il ciclo dall'estrazione all'uso immette in atmosfera rispetto a quello che puoi mettere invece questo ciclo appunto controllato metano fossile scusami ma non mi trovi preparato ho letto pubblicazioni dovrei ricordarmi la memoria ma la domanda è quanto metano perdono gli impianti di trattamento di biogas e biometano sono delle perdite sono perdite minimali dell'ordine dello 0,0 e qualche numerino dopo perché perché perdere biometano ma guarda te lo dico in maniera brutale molto terra a terra anche se non ci fosse una sensibilità ambientale che normalmente c'è da parte dell'imprenditore soprattutto al ciclo comunque gli imprenditori che fanno queste scelte hanno anche una sensibilità ambientale ma anche se non ci fosse facciamo per un attimo una considerazione squisitamente economica perdere un metro cubo di gas vuol dire buttare via dei soldi quindi è un non senso pensare che se c'è la possibilità di eliminare come c'è la possibilità di ridurre al minimo queste emissioni non si vada in questa direzione perché vorrebbe dire buttare i soldi in aria così buttarli via tecnicamente si possono ridurre al massimo assolutamente sì ma vengono monitorate fughe c'è ovviamente una grandissima attenzione per fare in modo che questo sarebbe sciocco da parte mia dire che non avviene completamente no non è vero avviene in maniera assolutamente minimale e con un impatto ambientale che abbiamo già detto stimato nel ciclo complessivo conta pochissimo noi stiamo aspettando che arrivi con Fallonieri che però mi pare non ci sia ancora forse allora potevo anticipare è arrivato è arrivato buonasera a tutti perfetto ottimo grazie scusami buonasera buonasera ciao Lorenzo va bene allora niente senti allora Maggiori puoi continuare a seguirci sì adesso vi seguirò perché magari appunto pensavo di chiudere con tutti e due alla fine quindi verso le sette e mezza però guarda io come ti ho detto sono sono in Francia ho tipo sei ore di auto quindi mi colleghi col cellulare ma visto che arriverò a casa basta che non ti distrai comunque c'è qualche domanda forse vediamo se c'è qualche domanda perché forse Enzo Tortello no no in chat non c'è c'è Enzo sì che si è aggiunto adesso forse ah l'ha aggiunto adesso prego Teresa perché parlava del dell'emissione del metano insieme a quello tradizionale no e poi la spiegazione di Lorenzo dice allora ho capito male perché avevo capito che è più puro il metano in partenza il biometano in partenza è assolutamente più puro quindi se io lo trasporto con un caro bombolaio se lo trasporto sotto forma liquefatta arriva a destinazione finale che ha un grado di purezza elevatissimo molto più alto rispetto al metano fossile se lo metto in rete si miscela col flusso del metano cioè quando ci sarà tantissimo biometano in rete il biometano contribuirà l'ultima domanda era un po' questa perché so che si sta parlando molto di idrogeno come eventuale alternativa e qualcuno sta ipotizzando la conclusione di Enzo che dice è quello che però capita nei porti durante il refrioring delle navi e GNL non so se qualche elemento posso prendere la parola visto il testo scusate quello che volevo dire è che sono state fatte le dimisure soprattutto nei porti del nord proprio per vedere il leakage del GNL durante la domanda che mi era stata fatta prima è sinceramente non mi ricordo i numeri di quel però stiamo parlando di quantitativi cioè non stiamo parlando di metano liquido che arriva attraverso una metaniera e un travaso dalla metaniera a una bettolina e poi da una bettolina a una nave da crociera cioè per darvi un ordine di idee di grandezza una nave da crociera consuma tanto sapete che ci sono navi da crociera alimentate a metano liquido una nave da crociera alimentata a metano liquido è in grado di consumare in una settimana la quantità di biometano che produce normalmente un impianto nell'arco di un anno quindi ecco semplicemente per considerare quello che potrebbe essere come dice giustamente lei il leakage le perdite di questo metano nei processi agricoli sono minimali perché stiamo parlando di quantità minimali se confrontate con le grosse quantità di fossile che movimentiamo attraverso il metano liquido però anche lì insomma mi permetto ancora di sottolineare di rifare la considerazione che ho fatto prima visto che si perdono soldi il tentativo non perché magari abbiano una sensibilità ecologica ma perché hanno una sensibilità economica si cerca di limitare io poi spero sempre che le persone abbiano anche una sensibilità ecologica quindi è ovviamente la speranza di tutti che si aumenti sempre di più questa sensibilità ecologica però se facciamo finta per un attimo che alcune persone non ce l'abbiano se non hanno sensibilità ecologica ce l'hanno economica quindi tendenzialmente cercano di minimizzare queste perdite perché ogni metro cubo fuggito in atmosfera sono soldi meno che incassano quindi è un problema che si affronta che si affronterà sempre di più e si cercherà veramente di ridurre a minimi termini sì perché penso che comunque diciamo le perdite che ci siano nella fase di estrazione del metano della sua distribuzione eccetera indubbiamente è intersecamente più difficile tenere sotto controllo un pozzo un'estrazione rispetto appunto a quello che può essere un biodigestore insomma questo è da quello che posso capire quindi ovviamente le perdite ci sono come ci sono normalmente quando uno va a riempire il suo bidone il suo serbatoio con la benzina era un problema che abbiamo affrontato anche dal punto di vista sanitario perché facendo anche dei controlli il benzinaio quanto benzene si respira semplicemente caricando il serbatoio dei suoi clienti e anche lì si è intervenuto per abbattere questa perdita perché sapete durante la fase di la pompa diciamo della benzina ha un sistema di aspirazione che aspira i vapori e li recupera quindi come dire la tendenza in generale a evitare tutti gli sprechi anche dal punto di vista economico ovviamente c'è poi c'è anche l'aspetto appunto ambientale e sanitario che a sua volta ciocca nel fatto che si facciano le scelte migliori insomma le soluzioni migliori io ve lo so ti chiedo perché ho letto alcune parti che qualcuno vuol pensare di usare appunto la rete di distribuzione del gas del gas naturale per invece per metterci dentro dell'idrogeno ne sai qualcosa oppure come dire a riguardo mi sto occupando anche mi sto occupando anche di quello perché sempre parlando di biometano l'idrogeno non lo possiamo produrre o rompendo la molecola dell'acqua H2O quindi separo l'ossigeno dall'idrogeno oppure anche la molecola del metano quindi io sto seguendo delle applicazioni che potenzialmente sono interessanti per rompere il legame tra carbonio e idrogeno e produrre idrogeno da biometano con quale vantaggio per quale motivo mi avvago della facoltà di non rispondere in questo momento allora no no bisognerebbe aprire fare un'altra sessione un'altra chiacchierata legata all'idrogeno cioè vabbè potremmo anche farlo posso riassumere posso riassumere il mio pensiero io forse per me fossi io il decisore politico oggi andrei avanti con un carburante un combustibile molto virtuoso che è il biometano sotto forma liquida sotto forma gassosa dove è possibile usarlo e dove ha senso utilizzarlo cioè il limite dell'idrogeno bellissimo come combustibile perché la combustione dell'idrogeno non genera emissioni peccato che ci siano dei problemini cioè nel senso lo stoccaggio il trasporto tutta l'infrastruttura che oggi in Italia manca cioè oggi in Italia c'è questo distributore a Bolzano che vende l'idrogeno a 14 euro al chilo c'è un distributore a Mestre che non so neanche se sia attivo tutto il resto è tutto da costruire cioè adesso sì col PNRR costruiremo una trentina quarantina di stazioni in servizio in servizio idrogeno però hai voglia cioè veramente siamo indietrissimo e ci sarà da spendere quantità di denaro impressionanti verso una direzione virtuosa io continuo a dire usiamo quello che c'è usiamolo bene e se possibile posso chiudere fare un esempio anche qua ci sono delle società che sono in grado di trasformare qualsiasi motore diesel da diesel a biometano liquido o gassoso c'è già un bellissimo esempio di una vecchissima littorina due treni due vecchie littorine alimentate a diesel dieselone proprio o pensate in Sardegna dove ci sono le linee ferroviarie non elettrificate che vanno a diesel c'è il famoso trenino verde della Sardegna che va a diesel allora dico convertitelo a biometano fatela come si può non devi buttare via neppure la motrice ci metti mano al motore lo trasformi come puoi fare su un'auto su un camion su un autobus lo trasformi da diesel a biometano il biometano lo facciamo in maniera virtuosa attraverso rifiuti e sottoprodotti agricoli e c'è già è già tutto pronto in questo caso è interessante perché la Sardegna non ha collegamenti del metano esatto è già tutto pronto potrebbe autoprodurlo abbiamo già l'infrastruttura abbiamo 1500 stazioni in servizio c'è tutto l'idrogeno arriverà bene benissimo che arrivi però arriverà tra un po' di tempo con investimenti da far spavento per ora sfruttiamo quello che c'è quindi la prima anche qua chiudo per fare l'esempio ferrovie nord che c'è in Lombardia ha bandito un'asta perché hanno detto facciamo il treno a idrogeno bene facciamo l'asta e la gara chiedo scusa gara pubblica per comprare per avere un fornitore di idrogeno e uno stoccaggio di idrogeno deserta due volte perché mancano ancora le tecnologie manca i prodotti manca ancora tutto siamo indietro bene se l'avessero fatto a biometano ci sarebbe chiuso se io sono un po' futuro anche io del biometano comunque io ringrazio Maggioni del suo interessante intervento quindi quasi ci risentiamo perché questo tema dell'idrogeno potrebbe anche essere sviluppato nel prossimo anno quando eventualmente riprenderemo queste nostre conversazioni quindi le ringrazio quindi pensi di poterti collegare in fase ci provo sì appena sono in cerchiamo di tenere sotto controllo la questione e adesso allora passiamo ad Alberto Confalonieri che ringraziamo e bene grazie mille e ci sentiamo grazie Confalonieri salve salve a tutti ciao Lorenzo buon viaggio allora Alberto ti presenti allora magari sì ma buonasera a tutti di cosa ti occupi ma guarda di rifiuti da più di 20 anni anche tu ahimè è un destino comune no allora sono allora sono Alberto Confalonieri sono il coordinatore del comitato tecnico del CIC e il CIC è il consorzio italiano compostatori che è la il consorzio quindi è un raggruppamento di imprese che da 31 anni ormai ha come mission come scopo fondativo quello di promuovere sostenere la produzione di fertilizzanti organici in particolare dai rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata urbana questo è un po' il chi fa parte del consorzio diciamo che persone sono quali erano loro attività loro interessi allora abbiamo due categorie di soci sono lo zoccolo duro è formato dai cosiddetti soci ordinari che sono le aziende che gestiscono operativamente gli impianti di trasformazione dei rifiuti in fertilizzanti c'è poi tra l'altro oggi come oggi le aziende consorziate al CIC che gestiscono gli impianti trattano più o meno lo 75-80% dei rifiuti organici gestiti in Italia complessivamente quindi una gran parte del settore produttivo italiano è sotto il cappello del CIC e poi abbiamo i cosiddetti soci aderenti che sono professionisti fornitori di tecnologie enti pubblici associazioni che hanno un interesse indiretto quindi perché sono consulenti perché sono fornitori di tecnologie perché sono ricercatori nell'ambito del rifiuto organico sono anche loro nella famiglia del CIC e poi abbiamo i due consorzio che obiettivi si pone allora il consorzio si pone gli obiettivi appunto di promuovere la trasformazione e l'utilizzo dei rifiuti organici in fertilizzanti organici compost che poi ha delle articolazioni nella sua denominazione fino alla promozione e valorizzazione dell'utilizzo finale ecco pensate che esiste un unico marchio di qualità del compost in Italia ed è il marchio di qualità CIC ed è un marchio nato ormai una ventina quasi d'anni fa per allo scopo di promuovere una verifica di parte terza della qualità del compost e quindi vincere quelle diffidenze che soprattutto all'origine c'erano rispetto a un materiale a un fertilizzante che veniva dai rifiuti e quindi spaventava gli agricoltori e gli utilizzatori ci puoi accennare allora cos'è il compost e come si produce quali sono le materie prime per poter produrre compost Allora Se hai qualche slide forse Sì Mi ho preparato qualche slide così Sì 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 Prego Allora Condivido lo schermo Sì puoi metterlo al schermo intero se è possibile Certo è già schermo intero Adesso a breve mi dovete dire se lo vedete Sì va bene Te lo dici Ecco Adesso ho condiviso Ditemi se vedete lo schermo Sì lo vediamo a schermo intero Perfetto Perfetto Benissimo Allora Intanto due parole sui Fizzo su quello che alimenta il sistema di riciclo che sono appunto i rifiuti organici che rappresentano e qui è sempre importante vedere il nostro il nostro lavoro quello appunto di produttori di compost sotto la duplice veste uno di produttori di fertilizzanti rinnovabili e due come fornitore di servizi nell'ambito della gestione dei rifiuti e su questa e questa slide si riferisce proprio al secondo aspetto cioè considerate che oggi fare la raccolta differenziata dell'umido e del verde che sono i due principali ingredienti con cui si fa il compost aiuta innanzitutto a sostenere le performance di raccolta differenziata dell'Italia tra l'altro considerate che l'Italia è il primo paese in Europa anzi forse al mondo ad essersi dotata nella normativa di obiettivi di raccolta differenziata e come vedete l'organico inteso come somma di umido e verde rappresenta una fetta importante preponderante della raccolta differenziata complessiva dei rifiuti organici e quindi se ci sono obiettivi da raggiungere fare la raccolta differenziata dei rifiuti organici è strategico in più abbiamo dal 2018 in Europa e dal 2020 in Italia degli obiettivi più stringenti di riciclo dei rifiuti organici dove il riciclo esatto benissimo e quindi ancora una volta fare la raccolta differenziata e poi una trasformazione ottimizzata nelle performance di questi rifiuti in prodotti è ancora una volta strategico le quantità che è riportato sono anche importanti la quantità di quindi è tutto raccolto di umido raccolto in modo differenziato giusto circa 7 milioni di tonnellate 7 milioni di tonnellate lo esprimo anche in chili abitanti hanno perché poi aiuta a comparare le varie regioni le varie realtà tra di loro e poi vi dà anche una dimensione considerate che noi tutti mediamente produciamo circa 500 chili qualcosa di meno forse ogni anno di rifiuti urbani più di 100 125 circa di questi sono organici sono umidi sono verde e poi è la frazione più problematica perché è quella che poi puzza crea problemi esattamente 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 poi vi ho proposto sempre parlando dei fisto quindi ciò che viene alimentato al sistema del compostaggio in senso lato qui vedete una storia una veloce storia dell'evoluzione della raccolta differenziata che parla appunto di crescita anno per anno importante perché parliamo di centinaia di migliaia di tonnellate in più che ogni anno entrano nel sistema e al 2021 appunto siamo arrivati ai numeri che avete visto prima ma è interessante vedere la storia perché è una storia che racconta di vari che ha dietro delle motivazioni per esempio appunto vi dicevo nel 1997 primi obiettivi di raccolta differenziata è stato un primissimo stimolo a fare alla raccolta differenziata dell'umido anche se ai tempi ahimè vi devo anche dire che ce ne si fregava un po' anche perché c'erano obiettivi di raccolta differenziata ma non c'era un sistema sanzionatorio dietro quindi finché non siamo arrivati ad avere l'Europa e che parliamo del 2018 che ci ha imposto il riciclo e dietro le imposizioni delle direttive ci sono delle possibili sanzioni questo solo stimolo non ha funzionato granché però nel frattempo sono successe altre cose tipo saturazione delle discariche costi sempre crescenti del trattamento dei rifiuti indifferenziati tutto questo ha inciso in modo determinante in questa in questa curva vede in questa scusate in questa palita di crescita delle raccolte differenziate c'è in questa interessante flessione del 2020 che è l'anno del covid anche su questo si potrebbe aprire un'interessante discussione di carattere sociologico relativa ai movimenti dei rifiuti nell'anno della pandemia dell'inizio della pandemia e poi vedete che abbiamo facciato una previsione di minima e di massima di quello che può essere il punto d'arrivo dove vedete che ormai siamo arrivati a una copertura del servizio quindi una intercettazione dei rifiuti organici che tutti noi produciamo che è intorno all'80-85% a livello nazionale a livello nazionale con interessanti differenze da regione a regione però le regioni si stanno piano piano allineando una con l'altra qualche anno fa vi avrei detto drammatica la situazione del sud virtuosa quella del nord oggi vi posso dire che vediamo già subito questa scusate questa prossima slide facendo un raffronto tra quel che succedeva in Italia dieci anni fa qui colore rosso brutte prestazioni colore verde scuro belle prestazioni di raccolta differenziata ecco se nel 2010 vi avrei potuto facilmente raccontare dobbiamo spingere la raccolta differenziata nelle regioni del sud oggi vi posso dire beh ormai sì ancora c'è la Liguria che ci fa una bella figura allora avrai avevo scoperto che noi a Genova raccogliamo la metà dell'organico di Milano avevamo invitato i responsabili dei servizi la domanda è come mai ma vabbè le ragioni possono essere diverse ma tra l'altro poi dietro questa raffigurazione io vi ho parlato in modo in maniera cumulativa di umido e di verde ma sarebbe interessante anche fare ragionamenti differenziati perché appunto per esempio una cosa furiosa siccome il gradiente di raccolta differenziata del verde decresce da nord a sud e viceversa il gradiente di capacità di intercettazione dell'umido cresce da nord a sud oggi siamo sostanzialmente a una situazione in cui anche se il sud vedete che ha una raccolta differenziata dell'organico mediamente un po' più bassa che al nord ma a livello di umido il sud in quantitativi assoluti è ormai pari al nord quindi si raccoglie tanto umido al nord quanto al sud nonostante poi il sud sia meno popolato e quindi abbia come dire un handicap di partenza però appunto è una situazione che pian piano si sta omogenizzando in tutta Italia appunto con regioni che devono essere un po' più stimolate la Liguria e la Città di più ahimè devo dire che è l'ultima regione d'Italia fino a poco anni fa era la Basilicata però appunto con adeguati stimoli io credo e crediamo che ci si debba arrivare all'obiettivo finale questo è un po' per parlare il salto della Val d'Aosta è sorprendente sì 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 certo assolutamente poi sono anche sono anche molto pochi quindi basta convincere si convince un paesotto hai già fatto mezza Val d'Aosta ecco tenete presente che appunto l'evoluzione come come ce la dobbiamo immaginare non come un ma dai partiamo con la raccolta in Lombardia oggi in tutti i comuni si raccoglie un chilo abitante anno domani due dopo domani tre no l'evoluzione la crescita della raccolta differenziata avviene perché interi comuni o intere province da un anno con l'altro partono con la raccolta differenziata e poi da lì normalmente non tornano indietro non tornano indietro quindi è una crescita a macchia di leopardo che appunto incasella uno dopo l'altro tutti i comuni e appunto la Val d'Aosta è fatta di pochi relativamente pochi comuni quindi parte un comune grossino e hai già fatto un bel pezzo di Val d'Aosta come intercettazione di rifiuti organici senti la qualità del come ci puoi raccontare qualcosa perché ovviamente immagino che poi il compost il buon compost si fa partendo da una buona raccolta differenziata immagino che tu ce la possa confermare no ti correggo solo parzialmente non perché sia sbagliata l'affermazione ma perché noi poniamo l'accento su un altro aspetto allora uno il CIC vi ho raccontato che fa il marchio del compost ma un'altra ossessione che è quella delle analisi merceologiche della valutazione della qualità soprattutto dell'umido ma non solo perché anche il verde ha le sue magagne ma considerate considerate che noi mediamente ogni anno analizziamo qualcosa come 1500 campioni di rifiuti organici e cosa andate a vedere? andiamo a vedere in particolare le frazioni estrane le macro frazioni estrane quelle che riassumiamo in materiale non compostabile che sono le plastiche i vetri i metalli quindi tutto quello che noi sappiamo il cittadino è dovrebbe essere istruito a non raccogliere con l'umido ma lo fa poi ci sono delle frazioni ambigue lo ammetto e lì la comunicazione ad esempio i pannolini c'è la falsa come dire la credenza che siccome il pannolino raccoglie principalmente gli scarti organici dei bambini o degli incontinenti insomma c'è tutta una il cuore del pannolino del pannolone usato è effettivamente organico però dentro il pannolino c'è il superassorbente quindi un composto chimico il pannolino è fatto da un involto di plastica e poi ci sono altri aspetti che ci fanno vivere il pannolino con qualche preoccupazione però la sua presenza può essere più capita dal punto di vista della buona fede dell'utente per ahimè per il vetro per i metalli le scusanti non ci sono e per la plastica convenzionale ce ne sono veramente la qualità sta peggiorando sta facendo esatto il motivo il motivo il motivo è che uno dei motivi possibili è che c'è una grande distrazione da parte dei consorsi dei comuni che fanno le raccolte rispetto al tema della comunicazione cioè noi ci siamo resi conto che vorrebbero fare i comuni la comunicazione non è che ve ne occupate voi dovrebbero farla i comuni la devono fare i comuni questa non è la nostra non è nei nostri poteri perché certo si vuole un organico veramente importante per andare capillarmente ovunque a dire come si fa la raccolta differenziata però lasciami dire un importante parametro che influisce sulla raccolta è il tipo lo schema di raccolta sapete porta a porta contro cassonetto stradale la vince il porta a porta sicuramente perché crea una responsabilizzazione diretta dell'utente immaginatevi te lo puoi confermare questa come dato scientifico te lo posso confermare abbiamo fatto ripetute valutazioni le facciamo ogni anno e tutte fanno vedere che mediamente il porta a porta vince dal punto di vista della qualità però questa innanzitutto questa differenziazione di qualità si conferma ma peggiora nell'uno e nell'altro caso perché c'è questo secondo tema della comunicazione che ahimè tutti stanno un po' trascurando tutti stanno un po' trascurando e vengo alla parziale correzione che volevo che facevo alla tua introduzione al tema della qualità cioè è solo minimamente responsabile del peggioramento della qualità del compost il peggioramento della qualità del rifiuto cioè gli impianti hanno tutti gli strumenti per arginare i contaminanti fisici ci sono i vagli ci sono i filtri ci sono tutta una serie di operazioni che gli impianti fanno che sono in grado di sottrarre vetro, plastiche, metalli dal flusso dell'organico quindi dal compost però il problema è che questo ha un costo da un punto di vista sia degli investimenti tecnologici ed energetici quindi c'ha un costo vivo nella operabilità degli impianti e poi queste operazioni sono operazioni imperfette noi chiamiamo effetto trascinamento quel fenomeno per cui se io devo togliere un chilo di plastica dall'umido o dal compost io devo sacrificare un altro chilo o più di frazione organica che viene via e quindi viene poi destinata a scarto insieme alla plastica al vetro al metallo che ho tolto lo chiamiamo effetto trascinamento mediamente adesso siamo a un effetto trascinamento che sta tra il 2 e il 3 cioè il che vuol dire che se veramente si confermano ecco il dato del 2022 ancora lo stiamo verificando ma se si conferma che ci avviciniamo all'8% di MNC cioè frazione estranea presente nel nel rifiuto organico vuol dire che mediamente gli impianti fanno 2 o 3 volte tanto in termini di scarti e uno c'è l'investimento energetico per produrli questi scarti cioè per far andare i vagli per far andare tutti i sistemi di selezione e poi c'è un costo di smaltimento di questi scarti che sta diventando veramente importante al limite della sostenibilità economica degli impianti e quindi cosa bisognerebbe fare allora per evitare questo dato allora partendo dal difetto che secondo noi c'è oggi nel sistema cioè ci siamo dimenticati di raccontare periodicamente ai cittadini come va fatta la raccolta differenziata chiaramente dando le informazioni sul valore che ha per loro fare la raccolta differenziata fatta bene quindi le informazioni che vi sto dando io su come evolve il sistema quanti impianti ci sono cosa succede al loro rifiuto organico insomma questo rapporto si è un po' perso e va recuperato e poi c'è anche per stimolare chi dovrebbe poi fare la comunicazione noi abbiamo sempre sostenuto per esempio la differenziazione delle tariffe di conferimento laddove l'impianto ha avuto la possibilità perché poi non è sempre scontato che lo possa fare di applicare ai comuni che conferiscono tariffe differenziate in base alla percentuale di frazione estranea presente nei rifiuti questo ha agito da buon livellatore perché il comune che si vede caricare una tariffa che magari è un terzo più cara rispetto al comune vicino perché il comune più vicino è più bravo allora ci pensa un po' e mette in atto le sue strategie per migliorare la qualità la regione Sardegna per esempio è un bellissimo caso di attenzione al sistema del riciclo dell'organico nel suo complesso portato a livello regionale forse è l'unico caso in Italia hanno anche buon gioco il fatto di essere un'isola quindi di essere un ambito raccolto però lì anche con convenzioni accordi di collaborazione che la regione ha sempre avuto con il CIC ma lì c'è una rete di controllo della qualità dei rifiuti dei comuni controllo degli impianti di trattamento appunto sotto il cappello chiamiamo la cabina di regia della regione e del CIC che fa sì che la Sardegna non so se vi siete accorti dal slide precedente sia una regione fiore all'occhiello ma è esportabile questa esperienza secondo te? in parte esportabile appunto il fatto che sia una regione un'isola già facilita un po' le cose perché poi ci sono dinamiche di mercato che fanno sì che invece nell'Italia continentale alcuni per esempio immaginatevi flussi di rifiuti che vengono raccolti in una regione se ne vanno a 800 km di distanza per essere riciclati ecco lì c'è una minor capacità dell'impianto di riciclo di pesare o di avere un rapporto col territorio di origine di quei rifiuti e quindi di interagire con gli enti locali per stimolare i miglioramenti quindi da questo punto di vista essere un ambito isolato e quindi poter lavorare in sinergia tra chi raccoglie chi ricicla e magari chi utilizza anche il compost perché in questi accordi di programma che facciamo c'è anche la parte agricola le agenzie regionali che si occupano di agricoltura nel gioco è importante è importante quindi in parte questa cosa è sportabile infatti noi abbiamo attivato altre collaborazioni con la Calabria con la Puglia con l'Abruzzo e alcune stanno funzionando meglio alcuni aspetti stanno funzionando altri meno noi facciamo il possibile non siamo alla questa cosa della qualità non pensi che la confusione che c'è nel tipo di sacchetto nel senso che io anche io personalmente ho un po' di difficoltà a capire se quel sacchetto che ho è di compostabile o meno oppure ancora del vecchio polietilene che comunque il verduraio in qualche modo continua a darmi perché è quello che avviene mi chiedevo se invece col fatto non dico obbligare perché non credo che sia possibile ma passare a un cassacchetto di carta che ha tutta una serie di altri vantaggi io lo uso molto spesso anzi lo uso solo quella direi per fare la mia raccolta non potrebbe essere un modo di migliorare la qualità è un problema secondo te questo che ti ha non è un problema noi su questo siamo sempre stati neutri nel senso che noi abbiamo sempre sottolineato l'importanza di usare il sacchetto compostabile lasciando poi libertà ai comuni di decidere ai consorsi di decidere se fosse meglio la carta meglio la la plastica compostabile quindi per noi è stato già importante sostituire purtroppo non siamo arrivati al 100% di sostituzione il sacchetto di plastica convenzionale con un sacchetto compostabile il fatto della riconoscibilità Federico è vero in parte nel senso che ormai le normative che si sono succedute hanno sempre di più messo all'angolo il sacchetto di plastica convenzionale se ci pensate prima nel 2010 obbligo di raccolta differenziata esclusivamente con i sacchetti compostabili poi divieto di commercializzazione di sacchetti per asporto merci non compostabili poi più recentemente divieto anche di produzione dei famosi ultraleggeri quelli per raccobbe per comprare la frutta e la verdura al supermercato vi ricordate anche lì c'è stato il divieto di commercializzare sacchetti che non fossero compostabili quindi oggi il mercato dei sacchetti è un mercato di sacchetti che sono quasi principalmente di materiale compostabile cosa non sta funzionando due cose uno è appunto torno al tema della comunicazione la mancanza di sensibilizzazione rispetto all'importanza di fare la raccolta differenziata anche con il pacchetto compostabile scusami perché c'è adesso questa pubblicità sul riciclaggio del vetro molto carina secondo me molto efficace qui ti dicono chiaramente le due cose essenziali che devi fare mi sta venendo in mente ma se tu dovessi fare un tuo come dire suggerire appunto una campagna su quale cosa punteresti cioè qual è l'informazione che un buon cittadino riciclatore deve sapere per evitare appunto il peggioramento della qualità dell'umido che vi consegna poi sostanzialmente beh qua potrei si può agire sulle due leve la sensibilità all'ambiente e quella al portafogli su entrambe ma qual è l'errore principale secondo te che avviene qual è che bisogna evitare c'è cosa che viene messo e sbagliato insieme all'organico compostabile allora ti sembrerà paradossale ma ancora una volta la plastica sì che una volta pesava diciamo il 60-70% del come dire della torta della frazione estranea presente nel rifiuto adesso pesa un po' meno ma pesa ancora tanto e uno dice ma con tutti i sacchetti che ormai sono sempre quasi tutti compostabili in giro ma dove li vanno dove li va a trovare la gente i sacchetti di plastica sì sì ma come ho detto anche a me abbiamo consegnato l'abbiamo scovato il responsabile nei supermercati cioè non c'è il divieto di vendere nei supermercati i rotolini avete presente i rotolini di sacchi per la raccolta generica dei rifiuti ecco probabilmente manca ancora la sensibilità bisogna rinnovare la sensibilità all'utente che comprare i sacchetti al supermercato e usarli per raccogliere l'umido che per il cittadino al cittadino dà l'impressione di raccogliere dal proprio punto di vista meglio l'umido perché l'umido puzza come dicevi tu Federico allora mettere in un bel sacchetto di plastica e chiuderlo ben stretto ti aiuta a non far puzzare la casa in realtà con una buona comunicazione puoi dire che usare invece il sacchetto compostabile di carta o di bioplastica col secchiello traforato che traspira tutto quanto ti dà lo stesso risultato ma aiuta il sistema poi del riciclo a non avere quello è un aspetto importante la plastica convenzionale nei miei corsi di compostaggio domestico mi rendo conto che quel problema della raccolta cioè spiegare perché il secchietto il secchiello deve essere forato o non tutti lo intuiscono c'è un altro aspetto se posso Federico questo per adesso te la do più come mia opinione personale che come come frutto della elaborazione del pensiero del ciclo del sistema Italia ma è vero che allora quando abbiamo fatto le prime rilevazioni della qualità dell'umido raccolto dai cittadini che usavano sacchetto compostabile rispetto al sacchetto convenzionale ci siamo resi conto che la differenza era drammatica cioè chi raccoglieva l'umido col sacchetto in bioplastica o in carta faceva una raccolta differenziata eccezionale chi lo raccoglieva col sacchetto di plastica faceva una raccolta mediamente brutta o pessima addirittura però c'era un aspetto che poi nel tempo si era perso cioè quei primi sacchetti su cui facevamo queste prime sperimentazioni le facevamo quando l'unico sacchetto messo in circolazione compostabile era quello che il comune quello che chiamiamo apposito cioè quello che il comune consegna gli utenti adesso c'è un po' una perdita diciamo di identità del sacchetto cioè il cittadino non è consapevole di avere in mano un sacchetto compostabile prezioso alleato per il riciclo di rifiuti organici il cittadino ha tanti sacchetti compostabili in casa e a volte non ne percepisce il ruolo perché ormai l'esse lunga il supermercato il ferramenta chiunque ti consegna la merce in un sacchetto compostabile perché come ci siamo detti prima è ormai vietato commercializzare sacchetti di plastica tranne appunto quei casi che vi ho detto cioè i rotolini da supermercato e quindi forse c'è io lo leggo sempre un elemento di percezione di sensibilità di istruzione all'utente c'è forse un po' una perdita di identità di questi sacchetti e quindi questa grossa differenza che c'era prima tra qualità dell'umido raccolto nel sacchetto compostabile qualità nel sacchetto di plastica si sta un po' smorzando nella sua intensità va bene quindi abbiamo questo problema da risolvere vediamo un po' che se i creativi inventeranno qualcosa di interessante ma poi abbiamo noi diciamo quello che vi sto raccontando sulla qualità la dobbiamo la stiamo raccontando e facendo pesare anche alle istituzioni a Istra alla Rera che è questa autorità di regolazione che è entrata da poco nel mondo dei rifiuti che stiamo cercando di comunque è fondamentale la comunicazione anche negli altri settori quindi una cosa importante senti parliamo un po' di impianti allora una volta che comunque la raccolta ovviamente tu l'hai fatta fatta bene cosa succede ai sacchetti al loro contenuto allora dove vanno a finire vanno a finire in un impianto di riciclo e qui vedete la fotografia attuale di quali sono le opzioni di riciclo presenti in Italia allora questo è proprio recente il dato che si fa è l'ultimo disponibile dati 2021 cioè l'anno 2021 si del Ispra quindi va bene il 2021 come anno tra l'altro apro e chiudo parentesi l'Ode a Ispra perché vi garantisco che si sta facendo la vera un tal lavoro e creci ho detto le leggi sui rapporti per quanto abbiano un annetto di ritardo rispetto all'anno di produzione ma se andate in giro in Germania in Francia in Olanda a chiedere i dati aggiornati ve li danno di tre o quattro anni prima se va bene mi fa sempre piacere spendere una parola in favore di Ispra che ci dà modo poi di riflettere sui numeri ecco Ispra ci dice questo noi li elaboriamo un po' a nostro modo li puliamo un po' da quello che riteniamo non essere funzionale alla narrazione abbiamo qualcosa come 350 poco meno di 360 impianti che trattano i rifiuti organici più di 8 milioni di tonnellate di rifiuti organici trattati che sono di più di quelli che avete visto prima come raccolta differenziata ma perché oltre all'umido e al verde gli impianti che trasformano diciamo che riciclano i rifiuti organici in compost trattano anche altre matrici cioè rifiuti a matrice organica che sono per esempio i sanghi di depurazione che sono i cosiddetti scarti agroindustriali quindi gli scarti prodotti dalle aziende di trasformazione confezionamento di alimenti di cibo che producono scarti e quindi parte di questi va alla nostra filiera e ci sono due direzioni dei direttrici principali di trasformazione la prima che è quella lo zoccolo duro è quella del compostaggio trasformazione esclusivamente aerobica attraverso processi di uso quindi scusate perché ne abbiamo parlato prima quindi anaerobico o senza ossigeno aerobico invece con ossigeno la differenza esatta quindi classi di di microorganismi diversi una che è abituata anzi vive per lui l'ossigeno è una sostanza tossica sono gli anaerobi e quegli aerobi invece che hanno bisogno di ossigeno e quindi di qui la diversità la diversa strada che gli scarti possono prendere esatto quindi gli aerobici lavorano negli impianti di compostaggio che sono la maggior parte in Italia vedete quasi 300 su 360 e trattano più o meno la metà dei rischi però la quantità sono uguali mi pare di capire la quantità trattata nei due sistemi di impianti sono gli impianti più grandi esatto quelli di gestione anaerobica esatto gli altri che sono gli impianti che in Italia abbiamo questa peculiarità di essere impianti non di digestione anaerobica ma impianti integrati cioè sono impianti che hanno sostituito una parte del processo di compostaggio la prima quella che si chiama fase di trasformazione intensiva ACT quella in cui la sostanza organica putrescibile cioè quella che in ogni caso viene degradata dai batteri dai microrganismi negli impianti integrati appunto questa fase da aerobica nei processi di compostaggio è stata trasformata in anaerobica quindi in quella fase lì la parte putrescibile del rifiuto viene trasformata nel biogas e biometano di cui vi ha ampiamente raccontato Lorenzo quindi del compostaggio tanto per dire è anidia carbonica che se ne va in atmosfera quella ossidativa nella digestione anaerobica anidia carbonica e metano questa è la differenza sostanziale dal punto di vista chimico esatto poi appunto la peculiarità italiana è che quello che esce poi dal digestore quindi dal reattore anaerobico abbiamo parlato del digestato ne abbiamo aggiornato nella prima incontra ecco in Italia viene quasi totalmente nella quasi totalità dei casi trasformato in compost quindi c'è in questi impianti anche un impianto accorciato nei tempi ovviamente di compostaggio quindi c'è un vantaggio a abbinare i due sistemi questa scelta di abbinare di gestione compostaggio ha un motivo anche allora ha diverse motivazioni la prima è normativa allora l'obiettivo di un impianto di questo tipo è trasformare un rifiuto in un prodotto oggi cioè fino ad oggi in Italia l'unico prodotto che si può ottenere dal rifiuto organico è il compost non esiste il digestato come lo chiamiamo end of waste cioè fine della sua vita da rifiuto e quindi il compost deve essere per forza il terminale e questa è la motivazione normativa più cinica se vogliamo in più c'è anche una motivazione storica cioè molti di questi impianti di questi 63 impianti sono impianti che erano già precedentemente impianti di compostaggio quindi a un certo punto non hanno fatto altro che introdurre nel loro la fase anaerobica poi ci sono anche motivazioni di carattere logistico cioè è più facile gestire un compost che è una polvere che è un materiale polverulento rispetto a un digestato che è una pappa o addirittura un liquido che ha delle sue problematiche di gestione quindi sapendolo fare il compostaggio i nostri hanno continuato a farlo poi le cose potranno credo in maniera non drammatica cambiare in futuro cioè ci potrà essere più digestato in circolazione perché viene avanti una normativa sui fertilizzanti europei che contempla anche il digestato dandogli la qualifica anche di rifiuto cessato qualora proveniente dal rifiuto però come dire non è così facile ottenere quel tipo di digestato che la normativa europea richiede quindi potrà essersi il compostaggio il digestato compostato rispetto cioè il compost quello verde insomma che ci fai vedere rispetto al compost che esce dalla linea blu è diversa cioè si può dire che abbia anche caratteristiche diverse anche dal punto di vista agronomico per l'uso poi finale che no direi di no ci sono statisticamente appunto visto che abbiamo gestiamo questo marchio e quindi abbiamo tanti impianti che aderiscono e quindi noi facciamo tante analisi sui vari compost nel tempo non abbiamo evidenziato delle caratteristiche ovviamente è tutto compost a norma di legge perché altrimenti non sarebbe neanche un prodotto dopodiché se vogliamo filosofeggiare sul per esempio leggerissima maggior percentuale di azoto minerale nel compost ha digestato rispetto al compost da solo processo aerobico però ti dico sono anche differenze che all'inizio le abbiamo rilevate poi sembra che nel tempo si siano un po' perse quindi oggi non saprei se tu mi dici se è un miglioramento della tecnica ma ci sono tanti fattori che possono concorrere ecco però forse l'unico parametro che a un occhio clinico può far dire sì probabilmente questo è compost che viene da processi integrati rispetto a un altro è magari il pH perché i compost adigestati hanno dei pH un po' più alti più tendenti verso l'8 che verso il 7 sono più basi perché appunto perché c'è più ammoniaca esatto quindi il famoso azoto che è in forma un po' più minerale che in forma organica che basifica il compost dopodiché questo non abbiamo individuato nessuna differenza di carattere agronomico ecco in ferrarese dove in diversi campi abbiamo messo miscele di compost a solo compostaggio miscele di compost a processi integrati miscele di compost fatte con ingredienti che includevano anche i fanghi per esempio ecco dal punto di vista agronomico queste tre tesi non ci stanno dando segnali diversi indicatori significativamente diversi quindi devo dire che la qualità ci sta non difetta né da un campo né dall'altro adesso vediamo un po' il compost c'hai qualche diapositivo sì ecco l'ultima cosa vi faccio arrivare su questa hai giustamente detto tanti impianti di compostaggio ma se guardiamo le quantità più o meno sono le stesse il messaggio che vi passo è questo abbiamo tanti impianti di compostaggio ma sono impianti di piccola o media taglia in quel 293 ci sono per intenderci anche i piccolissimi impianti di compostaggio del verde che magari ci sono a Sanremo mi pare che ce ne sia uno o presso i consorzi agrari mentre gli impianti di digestione anaerobica che anche per motivi economici hanno necessità di fare volumi sono impianti medio grandi ecco quindi a servizio anche di grandi città io maggio che sia anche questa differenza no dalla scelta dei due sistemi giusto direi di grandi città o di intere province o di anche quasi di regioni in alcuni casi questo è il riassunto degli output giusto per chiudere con il tema impiantistico abbiamo visto che ci sono queste categorie di impianti globalmente quel sistema impiantistico che avete visto prima fa più di 2 milioni in tonnellate di compost delle varie tipologie e poi fa 400 e passa milioni di metri cubi di biogas in cui la componente biometano è cresciuta molto nel nostro settore nel settore di fiuti ed è arrivata a una capacità annuale di produzione di quasi 140 milioni di metri cubi questa è l'attuale produzione giusto questa è l'attuale quindi oggi in Italia tutto il biogas che si produce dai rifiuti quindi il tema agricolo di cui ha parlato Lorenzo non fa parte di questa narrazione è diviso più o meno in un buon terzo che va a biometano anzi di più perché quei 136 milioni di metri cubi di biometano corrispondono a più di 200 milioni di metri cubi di biogas perché quel biometano lì è già stato privato dell'angelo di carbonica quindi di questi 406 milioni metà vanno a biometano e l'altra metà va a fare energie elettriche la domanda gli agricoltori rispetto al compost che appunto questi piatti producono qual è il loro atteggiamento lo comprano tra l'altro appunto anche lì viene venduto viene sempre più venduto la prima fase di difficile accettabilità motivo per cui è nato questo marchio cioè gli agricoltori oddio una roba che arriva dai rifiuti chissà che porcheria c'è e quindi abbiamo messo in piedi questo marchio questo ha facilitato indubbiamente il dialogo tra agricoltori e impianti arrivare fino alla vendita è stato un passo duro e lo hanno fatto solo alcune aziende perché immaginatevi che il mondo di chi fa compostaggio è un mondo che proviene dal mondo del trattamento dei rifiuti quindi io ragiono sempre in termini di eredità storica che uno si porta dietro immaginate gente che prima gestiva una discarica un inceneritore una flotta di mezzi di raccolta dei rifiuti che si mette a far compostaggio magari lo fa anche bene anzi lo fa bene ma poi non ha stesso non ha le professionalità in casa per promuovere il proprio prodotto verso gli agricoltori non tutti si sono dotati dell'agronomo del agrotecnico che va capillarmente sul territorio a dialogare con gli agricoltori con i consorzi agrari con gli agronomi e quindi c'è un po' il ahimè in tante parti del nostro sistema di trasformazione un impigrimento per cui se trovi l'agricoltore che se lo porta via gratis o addirittura gli fai tu il servizio di somministrazione del compost sul campo è la cosa accettabile perché se no uno avrebbe in casa del prodotto che non sa come collocare e alla lunga poi diventa un rifiuto se non sai come collocarlo noi stiamo appunto brigando perché al compost venga data una dignità anche commerciale di prodotto oggi mediamente però ecco siamo in una situazione in cui la maggior parte delle aziende vende il compost però lo vende a valori economici molto molto bassi parliamo di non è il ricavo della vendita ma assolutamente no incide per un nientesimo sulla tariffa sui ricavi di un impianto laddove il principale fonte di reddito è la tariffa di conferimento quindi quello che in ultima analisi paghiamo noi come cittadini per portare i rifiuti all'impianto di compostaggio poi col sistema della digestione anaerobica il biogas il biometano c'è tutta una grossa fetta di incentivazione per carità anche di costi in più ma di incentivazione al biogas al biometano energia elettrica e il compost fa un po' ancora da fanalino di coda però il compost economicamente si regge cioè le imprese appunto del CIC sì 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 hanno un equilibrio economico assolutamente capito sulle tariffe che vengono prese dai comuni ma infatti noi lamentiamo e quel poco poi comunque importante anche infatti noi lamentiamo una carenza di mercato del compost non perché vorremmo che i nostri si arricchissero col compost ma perché sempre più ci fosse un riconoscimento del prodotto tenete presente che con ecco vi faccio vedere un'altra questo è il mercato del compost giusto per farvi capire dove va il compost dove vedete che il la grande parte più dell'80% parte di sinistra di questa slide è la destinazione in agricoltura di pieno campo con e qui guardate a destra le principali culture di destino che sono la cerealicoltura la frutticoltura alcune tra l'altro per esempio la frutticoltura anche di pregio quindi volendo spingere il valore del compost uno ne avrebbe di motivazioni e vi faccio vedere quest'altra grafica qui vedete riassunti quei 2 milioni e 100 mila tonnellate di compost che vi ho fatto vedere che si producono in termini di ciccia cioè di quanta componenti di valore ci sono si traducono in 400 600 mila tonnellate di sostanza organica e noi abbiamo sempre spinto per dare il valore alla sostanza organica per i mille benefici che offre al terreno ma ci sono anche decine di migliaia di tonnellate di macronutrienti quell'azoto quel fosforo quel potassio ecco vi do il numero che vi fa capire dove si potrebbe ambire ad arrivare ma non ci arriveremo mai se io volessi se un produttore di compost vendesse il suo compost dando all'azoto al fosforo al potassio che è contenuto nel proprio compost il valore attuale di mercato complice anche la salita dei prezzi di fertilizzanti per la guerra eccetera eccetera ecco ma staremmo parlando solo per i nutrienti trascurando la sostanza organica parleremo di cifre intorno ai 100 euro tonnellata oggi il compost viene impiazzato sul mercato a qualche euro a tonnellata dove qualche significa meno di 10 ma senti dal punto di vista agronomico comunque fa differenza usare appunto concimare il proprio terreno con compost piuttosto che con fertilizzanti chimici quindi adano per dire un nome assolutamente assolutamente sicuramente le due fonti dovrebbero essere sinergiche perché il compost ha una dotazione relativamente bassa soprattutto di azoto ma anche di fosforo di potassio e quindi di per sé almeno in prima battuta non sarebbe in grado di sostenere delle colture però il compost appunto ha tutti i vantaggi associati alla sostanza organica e tutti questi vantaggi si traducono in cambia la struttura del terreno lo rendi più poroso meglio lavorabile quindi anche energeticamente meno impegnativo ne aumenti la capacità di scambio cationico quindi la capacità di spugna nei confronti di che cosa? dei fertilizzanti chimici quindi per esempio dell'urea che citavi tu che viene adesa alla sostanza organica poi rilasciata e non viene dilavata quindi non va in falda e quindi aumenta l'efficienza anche dei nutrienti chimici e poi la capacità di ritenzione idrica cioè dove i terreni sono più ricchi di sostanza organica c'è più capacità di conservare l'acqua e sappiamo adesso con la rivoluzione verde che è successo perché poi i contadini si sono dimenticati che loro immaginano che c'è il problema della disponibilità dell'etame però appunto cosa dici è stato successo qualcosa? è successo che abbiamo avuto una moltiplicazione un'iniziale fantastica moltiplicazione delle rendite delle rese di produzione scusate perché buttando azoto fosforo e potassio nei sui terreni la produzione aumentava ma e nessuno se ne è accorto o nessuno ha voluto farci caso tutto questo ha creato ha comportato un impoverimento dei terreni che in tanta parte non d'Italia ma del bacino del Mediterraneo oggi sono sostanzialmente dei suoli inerti quindi non fertili e quindi se non vai avanti a buttarci azoto fosforo e patassio tutti gli anni dalla chimica questi terreni sono destinati a questo è il compito il ruolo del compost anche come sistema di segregazione del carbonio organico mi pare si stia ragionando anche sul fatto che abbia un valore economico poi c'è qualche aggiornamento su questo comunque se è corretto quello che tu hai detto sì sì se ne sta ragionando è un tema anche dibattuto perché ha dei suoi punti di forza dei suoi punti di debolezza i punti di forza stanno in quello che vi ho appena detto cioè abbiamo dei suoli che sono così poveri così carenti di sostanza organica che una politica di attività di carbon farming cioè di attività agricole virtuose avrebbe buon gioco a far tornare questi terreni ai livelli di sostanza organica originale e quindi questo determinerebbe uno stoccaggio netto di carbonio che è quello stesso carbonio che diversamente va in atmosfera come CO2 c'è una capacità di sequestro che stima si stima intorno a 310 milioni di tonnellate a livello europeo è roba non da poco l'Europa sta mettendo in piedi un sistema appunto sotto legida della commissione europea garantito di valutazione misurazione rilascio di certificati di sequestro di carbonio sul carbon farming cioè sulle attività agricole ci sono alcune correnti di pensiero che vedono delle debolezze in questo sistema perché dicono io ti pago per sequestrare il carbonio nel suolo per 5 anni e tu al sesto anno smetti di fare le attività quel carbonio lì che è carbonio organico non è carbonio che per l'eternità mi garantisci che sta nel terreno se io ti smetto di pagare e tu smetti di fare quel che devi fare quel carbonio lì più in pochi anni tornerà in prossiera noi quindi anche su questo io sono un autore certamente del tema della carbon sequestration del carbon sink cioè dell'utilizzo della valorizzazione dei suoli agricoli come stedi di restituzione del carbonio di stoccaggio a lungo periodo ma io premo sempre e premiamo perché nella futura normativa europea sui suoli perché si sta costruendo una direttiva sui suoli più in generale si dia un sostegno alle politiche di educazione dell'agricoltore alla gestione virtuosa dei propri terreni che per noi appunto del settore vuol dire stimolare l'utilizzo del compo ma in generale significa riportare una cultura agricola a quando città il tema dell'età ma quando un'azienda agricola era fatta da qualche bestia dei campi la bestia faceva le sue deiezioni che andavano nei campi e rifertilizzava quelle situazioni che hanno durato nel tempo per millenni senza creare grossi squilibri hai parlato della rivoluzione verde e abbiamo parlato solo in termini di fertilizzanti chimici ma c'è quell'altro aspetto che è il disaccoppiamento tra agricoltura e allevamento che è un altro drammatico tema su cui io ne so relativamente poco ci avviamo verso la fine non so se ci sono delle nuove domande Maria Teresa hai visto e controllato non c'è nulla in chat no no senti io adesso non so se Lorenzo si aggrega perché volevo chiedervi a entrambi poi intanto cominciamo con te questo tema un po' delicato insomma tutte le volte che esce fuori un impianto in particolare questi quelli di biogas ma anche quelli di compostaggio sto seguendo un po' le cronache c'è sempre qualche comitato che insomma del no come si suol dire su che sulla ecco diciamo così la stabilità delle impianti adesso parliamo con te di compostaggio come sta com'è come sta evolvendo nel tempo che qualche problema indubbiamente lo può creare no adesso non dobbiamo forse nascondercelo no ma guarda te lo dico il problema esiste direi sistematico è difficile trovare una situazione in cui c'è un'azienda che propone di fare un impianto ma di qualsiasi tipo poi io ve la racconto dal punto di vista del compostaggio ma lo stesso possono dire quelli che fanno le discariche gli inceneritori ma anche gli impianti di selezione della plastica perché chiaramente c'è un tema di percezione innanzitutto l'idea che vicino a casa tua faranno un impianto che tratta i rifiuti piace a pochi quindi solo poche persone riescono poi a bilanciare ma per quello io non parlo di rifiuti e lo sai magari io intanto di o scarti o materiali post consumo sì però se vedi poi nella in realtà la difficoltà poi di di interagire con l'opinione pubblica soprattutto quella di un territorio dove si dovrà fare un impianto è molto delicata per cui se tu parli di risorse non di rifiuti o di no 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 ma in generale poi ti 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 può arrivare addosso l'accusa che stai cercando di mascherare la realtà delle cose quindi non c'è mai il modo greenwashing in qualche modo esatto quindi come dire un atteggiamento critico ormai ce lo si aspetta sempre poi nel passato l'atteggiamento critico aveva anche molta legittimazione perché immaginatevi 30 anni fa i primi impianti oggi gli impianti si fanno tutti chiusi incapsulati con biofibri testimoniato delle puzze orrende della Toscana veramente qualche anno fa i primi impianti puoi chiudere la condivisione così ah sì scusami scusami tanto non ho chiamiamo meglio abbiamo finito grazie ok ok benissimo sono tornato io no no abbiamo ancora l'immagine e visione eh perché io aspetta teoricamente ecco adesso vorrebbe è tolta io ah benissimo grazie grazie no dicevo quindi nei primi impianti c'erano errori progettuali sottovalutazione degli impatti quindi sezioni gestite all'aperto e quindi però questo nel tempo si è perfezionato evoluto questo ha diminuito ma non ha eliminato le le polemiche quindi prima era polemiche perché mi fai l'impianto poi sono diventate polemiche perché me lo fai anaerobico non aerobico e se lo fai aerobico è perché non lo fai anaerobico quindi c'è sempre un atteggiamento che chiama richiama innanzitutto noi pensiamo sia comunque virtuoso passare per progettazioni partecipate dove dall'inizio cioè da quando c'è una reale concreta volontà di far qualcosa ci sia una costruzione di un dialogo ci sono aziende specializzate anche in comunicazione ambientale che siamo stati coinvolti in qualche caso per esempio a Roma di progettazioni partecipata quindi sono processi anche impegnativi però danno dei risultati non si arriva mai quasi mai ad abbracciarsi però a una come dire a un'accettazione che un qualsiasi impatto non lo si può prescindere però non c'è da parte di chi lo genererà auspicabilmente poco ridotto e raramente una volontà poi c'è il tema del un tema come la progettazione partecipata e poi abbiamo dei casi virtuosi di diciamo gestione partecipata se non proprio alla gestione dell'impianto in sé ma quanto alla gestione degli aspetti ambientali io vi ho preparato il caso di un'azienda pubblica del Vicentino che si chiama Etra che è una delle prime aziende ad aver fatto un impianto di digestione aerobica parliamo del 2007 a Bassano del Grappa un impianto vicino a delle case quindi che nasceva in un contesto un po' sfortunato dopo essere partito ha avuto dei suoi problemi oggettivi quindi di effettivo produzione di moleste olfattive e titoli sui giornali grande battagge grandi polemiche lì c'è stata una sintesi che è consistita nella costituzione di un comitato di quartiere comitato che vedeva seduti allo stesso tavolo rappresentanti dei cittadini ovviamente con un consulente ambientale qualificato che potesse interloquire con l'impianto sapendo che cosa faceva rappresentanti dell'impianto e rappresentanti diciamo delle istituzioni quindi del comune sicuramente poi non so se anche della provincia ecco si sono dati una come dire una regolamentazione quindi si sono si riunivano periodicamente per discutere i problemi e c'è stato anche un intervento costruttivo del tavolo nel proporre per esempio attività di monitoraggio fatte in modo scientificamente inappugnabile e anche diciamo rimedi o attraverso procedure o attraverso veri e proprie infrastrutture a problematiche di odori puntuali il risultato è simpatico questo ci è stato proposto dall'azienda in termini in quali termini in termini di titoli di giornale cioè si è visto che negli anni da un iniziale concentrazione di titoli sui giornali contro l'impianto molto alta a paio d'anni dopo la costituzione di questo comitato alla quasi scomparsa dell'impianto dall'interesse della cronaca quindi io questa cosa l'ho sempre spinta tra l'altro faccio parte anche del comitato tecnico scientifico di un altro impianto dove ormai nessuno si lamenta più poi per carità so benissimo che il giorno che succederà una puzza so benissimo che la popolazione dirà ma noi l'abbiamo sempre sentita però se ormai eravamo stanchi di protestare quindi su questa cosa non ci sarà credo mai una soluzione definitiva che tutti auspicherebbero però io credo nelle convivenze e nell'accettazione nella tolleranza rispetto all'importanza civica di fare certe cose ecco ma anche la comprensione di a cosa servono adesso questi pianti che è senz'altro aumentata rispetto sì quello sicuramente certo dicevo che nel mio piccolo i corsi di compostaggio domestico fatti a migliaia di persone ormai hanno dato un loro piccolo contributo per far capire alla gente come una cosa ben fatta e non è complicato farlo bene come può essere anche il compostaggio domestico in contesti urbani dato per dirne una che la cosa che abbiamo anche fatto può essere fatto bene e quindi come dire ci si può tranquillamente convivere senza praticamente problemi in realtà ed è molto bello vedere come dire questa trasformazione della materia che comunque da qualcosa che gestita male oggettivamente puzza tra insetti eccetera gestita con appunto intelligenza può essere nel piccolo appunto la compostiera domestica ovviamente nel grande impianto industriale può poi produrre un bene una realtà utile a tutti quanti bene io Maggioni mi pare che non ci sia io pensavo di potremmo chiudere qui Maria Teresa ora intanto allora facciamo così ringrazio allora Alberto Confalonieri quindi i nostri due ospiti di oggi quindi Alberto Confalonieri e Maggioni che ci hanno permesso di chiudere con questo argomento vedo che non abbiamo avuto molte molte audience perché si parlava anche prima forse parlare di compostaggio e di biometano non è una cosa così la gente non è ancora dell'idea comunque tra l'altro abbiamo registrato tutto poi verrà di nuovo comunque comunicata questa cosa sicuramente ci torneremo quindi ringrazio voi due ringrazio è giugno ormai la gente anche via forse anche una bella giornata ma no ma non mi lamento va bene così c'è ancora il sole domani è festa poi domani è festa e già c'è il ponte se anche io avrei dovuto andare via bene dicevo ringrazio il circolo zenzero che ci ospita ci ha ospitato in cui tutti queste tante puntate poi adesso appunto Maria Teresa ci farà un po' una sintesi ringrazio lei Maria Teresa che ha fatto un po' la moderatrice di questi incontri Christopher vanno appunto i nostri anche i miei personali ringraziamenti perché con grande abilità poi interviene a fare questi piccoli grandi tagli per rendere poi queste lunghe chiacchierate un pochino più agili Antonio Mante che ci sta dando un aiuto tecnico c'è anche Natali che è la segretaria qui del circolo che a lei a sua volta è una persona come dire sa dove mettere le mani per fare tutti i collegamenti e infine ringrazio Carola Sessarago che è quella che ha curato tutta la parte grafica di questi nostri belli diciamo locandine che avete visto e adesso do la parola a Maria Teresa per come dire un saluto generale che ci racconti io condivido un attimo con le ultime diapositive in modo da avere intanto ringrazio con pallonieri grazie a voi grazie a voi veramente interessantissima e rivace grazie grazie veramente quella di oggi è l'ultimo incontro di questo ciclo che è iniziato nel 2021 queste sono solo alcune delle locandine di questi anni è iniziata nel 2021 come dicevo all'inizio quando si cominciò a parlare di transizione ecologica sul sito dello Zenzero c'è una una pagina in cui abbiamo riassunto un po' gli scopi di queste di questi incontri e sono riportati tutti gli incontri come titoli correlativi link e quindi a cominciare dal lontano luglio del 21 in cui iniziamo con Francuccio Gesualdi e da qui si può andare alla pagina dove si parla dell'incontro e alla relativa registrazione sul canale YouTube dello Zenzero nelle conferenze di quest'anno abbiamo riportato anche approfondimenti di vario tipo per esempio la prima che riguardava le comunità energetiche ho inserito qui in questa pagina anche varie informazioni sulle comunità energetiche quelle esistenti quelle che vorrebbero costituirsi la normativa che manca alcuni statuti eccetera oppure nella seconda conferenza che era stata quella di Agostinelli che avevamo parlato di energia possiamo trovare qui approfondimenti sul nucleare e le fonti rinnovabili Agostinelli ci ha mandato di recente degli aggiornamenti che riporterò senz'altro anche se sono molto tristi perché le rinnovabili non decollano non si riesce a farle partire il governo non fa le stesse comunità energetiche il nuovo ministro aveva promesso non mi ricordo più quante comunità energetiche entro l'anno ma ancora da febbraio si aspettano 15.000 entro il 27 ecco grazie sapevo che mi avresti aiutato e quindi da questa pagina si può arrivare a tutto quello che abbiamo fatto in questi due anni grazie ancora a tutti quanti e come dire buona estate e buona energia non so Enzo ha alzato la mano Enzo ha alzato la mano diamo la parola volevo fare un'osservazione all'attere siccome ringrazio intanto a nome di ecostituto i due relatori che sono stati molto molto capaci ma non ne dubitavo perché abbiamo sempre avuto persone di elevata qualità volevo solo segnalare che con il dottor Maggioni abbiamo parlato a un certo punto di idrogeno e a questo proposito segnalerei appunto l'ultimo articolo che c'è nel nostro quaderno verso le comunità energetiche rinnovabili perché c'è un articolo di una professoressa di Bergamo che è stato molto apprezzato all'estero è stato richiesto e quindi lo segnalo perché può essere una buona occasione per raggiungere delle informazioni a quanto ci ha detto il dottor Maggioni scusate grazie bene allora niente se magari le energie rinnovabili hanno qualche difficoltà sicuramente il riciclo sta andando alla grande e quindi come dire ricicliamo tutti buone buone state rinnovo gli auguri a tutti auguri anche a tutti ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno seguito perché sia in diretta che in legislazione abbiamo avuto centinaia di visitatori e questo ci incita ad andare avanti di nuovo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti arrivederci buona estate anche da parte mia compostatevi bene insomma tutto posso dire